Nome Maurizio Luca Cognome Bottalico Salvadori Professione Pilota Pilota, youtuber, decidete voi Sogno nel cassetto Ah l'ho raggiunto, era l'isola di Man L'isola di Man o provare una MotoGP Chi è Maurizio Bottalico? Maurizio Bottalico è un grandissimo appassionato di moto Che a 43 anni continua a vivere e a sognare Di diventare grande in questo sport Anche se lo sono già Chi è Luca Salvadori? Un ragazzo molto appassionato del motorsport in generale E che sta provando in tutti i modi E più o meno ci è riuscito di far diventare questa passione un lavoro Chi è Luca Salvadori? Luca Salvadori oggi per me è sicuramente un amico Ed un grande professionista Chi è Maurizio Bottalico? Un grandissimo, anzi direi la bandiera italiana delle road races negli ultimi anni Insieme ovviamente a Bonetti, Coringa e compagnia bella Il miglior pregio dell'altro? I capelli, cazzo La pazzia e la testardaggine Il peggior difetto dell'altro? E che mi sta troppo vicino La sboronaggine Gare su strada perché? Perché è sempre stata la mia passione sin da piccolo Io in realtà ho iniziato con le gare su strada Diciamo non proprio ufficiali Dai mettiamola così Però facendo pista poi per tanti anni mi ci sono dedicato solo Da vecchio Quindi ho cercato di vivere la mia pensione in questa specialità Gare su strada per l'adrenalina e la gloria Ma non la gloria, quella delle gare normali E' una gloria un po' condita da un qualcosa di quasi mistico Dico Spoleto, cosa pensi? Spoleto è la gara per eccellenza del campionato italiano Come immagine, come percorso Che a me è sempre piaciuto tantissimo come organizzazione Per cui anche se non sono di Spoleto Ma la sento comunque una gara di casa Una delle salite più belle Anzi la salita che mi ha fatto innamorare alla fine di questo ambiente Di questa specialità Lancia il guanto di sfida all'altro Il guanto di sfida Ma lo lancio, glielo dico Però faccio un piccolo appunto Le sfide vanno fatte a darmi pari Ci abbiamo già provato in questo weekend Ma per una serie di motivi Si vogliono tenere le cose ben separate Io italiano e lui europeo Con le differenze tecniche che ben conosciamo E qua faccio un appunto Io non sono mai salito con una moto a Spoleto Una moto a due ruote in senso Quindi non ho praticamente zero esperienza Lui ha molta più esperienza in quel campo lì diciamo Io avrò un vantaggio tecnico per le gomme Perché c'è la differenza tra... Non so se lo metterai sotto lo scriverai insomma Nell'europeo bisogna usare le intagliate Io avrò le slick Quindi sarà un po' Decidete voi chi ha vantaggiato meno insomma Sei il migliore perché? Perché mi chiamo Maurizio Bottalico Perché sono sette volte campione italiano Perché sono sei volte campione europeo Perché ho fatto terzo all'isola di Man E perché ho vinto in Messico Semplicemente perché sono più veloce Dai appuntamento a tutti a Spoleto Vi do appuntamento tutti quanti E quando dico tutti, tutti Il 20 e 21 luglio a Spoleto Per il round 7-8 del CWS E in concomitanza mi raccomando Anche dell'europeo terza tappa Dove ci sarò ovviamente anche io Per assistere a uno spettacolo unico Nella storia delle gare stradali in Italia Scontro? No, non è vero Luca Non ci sarà lo scontro Perché lui corre nell'italiano Io correrò nell'europeo Ma avrete l'opportunità di vederci insieme Nella stessa gara E poter fare quattro chiacchiere con noi Ragazzi, sarà una sfida incredibile E a parte la sfida Vedere dal vero le moto che sfrecciano A veramente due metri di distanza È incredibile Quindi mi raccomando Ci vediamo lì Sarà uno spettacolo Gas come al solito Non ne ci vediamo al prossimo video Ci vediamo lì Ciao